Si è appena conclusa questa splendida inaugurazione del Lab Turismo Digitale. Quando abbiamo immaginato questo progetto intendevamo proprio questo, un contenitore di servizi a servizio delle nostre strutture, degli imprenditori del posto, degli imprenditori della nostra area, sia che fanno parte del consorzio e anche che non fanno parte del consorzio. E anche a tutti i cittadini. Inutile dire che è stato emozionante vedere qui la presenza dei sindaci e tutti coloro che sono intervenuti. Questo hub è solo l'inizio di un percorso che ci siamo immaginati. All'interno avremo diverse figure professionali. Ci è sembrato opportuno partire proprio dalla finanza agevolata, grazie ad un consulente d'eccellenza che è Ivan Ghilardi, che ha un curriculum di tutto rispetto. Quindi siamo convinti di aver portato sul territorio un professionista serio e capace. Partire dal PNRR era questa l'esigenza, perché in questo momento sono tanti i fondi che arriveranno e quindi bisognava trovarsi pronti. Per interfacciarci con gli imprenditori c'è bisogno di dare servizi, c'è bisogno di concretezza. Quindi a partire da questo ci auguriamo, e così come sta succedendo, che anche altri imprenditori si avvicinino al consorzio, perché solo così possiamo occupare quel ruolo strategico che noi imprenditori dobbiamo avere in quest'area. Sono convinto che le strutture ricettive, gli imprenditori del posto non si facciano sfuggire questa grande opportunità per loro e per tutto il territorio. Per noi è un orgoglio e un vanto aprire uno sportello del genere qui sul territorio di Marina di Camerota e quindi nel territorio cilentano, un territorio molto importante, molto strategico per il turismo campano. Ad oggi le imprese hanno bisogno di iniezioni di liquidità, hanno bisogno di partecipare a fondi dove è possibile accedere a fondo perduto e tasso zero e quindi togliere un secondo gli imprenditori dalle grinfie delle banche e quindi da questi tassi che continuano a crescere nonostante il momento di difficoltà. Il periodo è molto complicato perché le imprese vivono dei rincari per esempio delle bollette che è un elemento che pesa tantissimo in questo momento per le imprese come i vecchi tassi di interesse che sono stati applicati sui vecchi prestiti fatti e che hanno in essere e quindi oggi con l'apertura di questo sportello sarà possibile avere una nostra consulenza della mia struttura all'Ingroba Finanzial Service per poter far accedere alle imprese del territorio in particolare alle imprese turistiche di questo territorio, Camerota, Pisciotta e Palinuro con la speranza che poi questo hub si possa espandere su tutto il territorio cilentano quindi non solo questi tre comuni ma ampliare l'orizzonte con la speranza anche di essere un punto principale in Campania. Stamattina proprio il Presidente De Luca ha annunciato un tavolo di concertazione proprio sulla parte del Cilento il Cilento Sud dove lui in pratica ha specificato che questo tavolo di concertazione sarà per creare un'opportunità e una visibilità al Cilento in particolare Camerota, Palinuro, quindi Centola, Pisciotta, Ascea e tutta la parte del Cilento Sud proprio per dare un'attenzione focale su questo punto e questo quindi rafforza anche la nostra scelta, in realtà non è stato fatto neanche a caso lo stesso giorno ma è stata puramente una pura causalità dopo questa conferenza stampa del Presidente De Luca quindi per noi ci dà ancora più forza e significa che siamo stati lungimiranti in questo progetto. L'augurio che ci possiamo dare tutti noi che facciamo parte di questo progetto che al di là delle chiacchiere che si possono mettere sul tavolo è quello di portare elementi concreti sui tavoli degli imprenditori e soprattutto una bella fetta economica per dare una forte iniezione di liquidità alle imprese.